Non abbiamo mai avuto problemi con lui, nemmeno i colleghi con cui c'era veramente un buon rapporto e mai 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 avremmo pensato che succedesse una cosa del genere. A parlare è la direttrice di produzione della cooperativa Il Cerchio, dove dallo scorso novembre lavorava in semilibertà Bassem Degaci, il 39enne tunisino che si è tolto la vita nel carcere di Santa Maria Maggiore impiccandosi. Faceva parte dei 27 arrestati dai carabinieri nel Maxi Blitz contro lo spaccio di droga in Via Piave a Mestre. Quando gli è stata notificata l'ordinanza, il 39enne in carcere da due anni e mezzo ha telefonato alla moglie in preda alla disperazione, poi si è tolto la vita. Inutile il tentativo della donna di allertare il carcere anche attraverso il suo legale, che ha poi riferito che a settembre si sarebbe dovuto svolgere l'udienza per l'affidamento in prova ai servizi sociali, criticando così l'ordinanza che si riferiva a fatti avvenuti nel 2018. Il 39enne, infatti, da circa un anno aveva intrapreso un percorso di recupero con la cooperativa e i risultati erano sotto gli occhi di tutti. Era uno che si metteva in gioco, che aveva voglia di imparare, che si relazionava perché lui lavorava in un ambiente dove c'era un via vai di utenza, dal punto di vista lavorativo era una persona corretta, quello che sogna ogni datore di lavoro. Una persona crolla, crolla, questo è il fallimento del nostro Stato, ne abbiamo avuto tanti così. Probabilmente la giustizia ha dei problemi, è troppo lenta. Un problema tra mancanza di giudice e carenza di organico dell'ufficio GIP, sollevato da tempo dal presidente del Tribunale di Venezia. A fronte di un organico di nove giudici ha dichiarato quelli oggi operativi sono cinque. La coperta è sempre corta, come ha evidenziato anche l'assessore al sociale. Da un lato c'è una grossa soddisfazione per gli arresti che sono avvenuti e la risposta dello Stato è quello che noi chiediamo sempre di più e sempre più forte allo Stato. Una forte attività repressiva di smantellamento delle reti criminali che ci sono e che esistono nel nostro territorio. Dall'altra parte c'è il dolore e l'amarezza davanti a una situazione di una vita che si spegne in queste circostanze. C'è da riflettere forse sulla tempestività con cui si arriva a certe situazioni. Quando viene meno la tempestività probabilmente si creano problemi come quello che abbiamo assistito. Ma è importante focalizzarci sulla causa per evitare che si ripeta della tempestività. E per farlo serve dare il giusto organico agli uffici giudiziari che oggi non hanno.